Ciao romanista tifoso giallorosso. Benvenuto nel tuo canale di notizie NasRoman questo canale ha lo scopo di fornire le ultime notizie accurate e aggiornate sul club NasRoma, ci impegniamo a fornire ai nostri follower contenuti di alta qualità in modo che tu possa essere sempre informato su tutto, iscriviti ora e rimani aggiornato su tutte le novità. Rosella Sensi, Zagnolo non ha mai capito il valore della Roma, forse tra un po' se ne renderà conto. Ecco cosa ti perdi. In sottofondo l'Olimpico che cantano Roma, Roma, Roma. Rosella Sensi interviene così sul caso Zagnolo, a poche ore dal passaggio ufficiale del 23enne al Galata Sarai. In un post su Instagram l'ex presidente giallorosso non le manda a dire al calciatore, non credo sia giusto entrare nelle dinamiche di una società e di una squadra quando sia fuori. Per questo sono voluta rimanere in silenzio fino ad oggi sulla storia Zagnolo, in attesa di un epilogo che potesse dare un senso a tutto. E ora non posso che essere dispiaciuta. Se sei un tifoso appassionato della squadra di calcio NAS Roma, iscriviti subito al nostro canale e clicca mi piace per mostrare il tuo supporto, grazie. Continua. Nicolò è un ragazzo che aveva la possibilità di diventare un idolo per questa città, ma che temo non abbia mai capito il vero valore di Roma e della Roma. Una squadra che lo ha fatto crescere, che lo ha coccolato nei momenti difficili, che lo ha aspettato. Con dei tifosi che gli hanno voluto bene finché hanno potuto, che lo hanno difeso anche quando era difficile farlo, che lo hanno accolto come uno di famiglia. Come un romano. Forse tra un po' di tempo se ne renderà conto. Infine la Sensi aggiunge, il più grande dispiacere ora è solo per la Roma che deve fare a meno di un giocatore titolare, anche se ultimamente poco determinante, senza averle dato la possibilità di sostituirlo in maniera adeguata. Ecco, romanista tifoso giallorosso. Siete d'accordo con le parole di Rosella Sensi? Sì o no? Se sei un tifoso appassionato di Nas Roma, assicurati di lasciare il tuo commento qui sotto. Ci piacerebbe sentire la tua opinione sui contenuti che condividiamo e ascoltare i tuoi suggerimenti, resta sintonizzato che tornerò in qualsiasi momento con le ultime notizie As Roma, Forca Roma.